L'intensificazione dei servizi di controllo del territorio e l'attività realizzata per prevenire e reprimere i furti in abitazione hanno portato all'arresto in fragranza di due cittadini stranieri. I carabinieri della sezione operativa del dipendente nucleo operativo radiomobile sono stati allertati da alcuni strani rumori provenienti da un alloggio di via Piemonte. La pattuglia intervenute si è immediatamente insospettita della presenza di alcuni individui che all'interno di uno stabile erano intenti ad armeggiare con oggetti di vario genere. Trattasi di due ventenni di origine albanese che nella tarda serata di sabato, approfittando della temporanea assenza dei padroni di casa, sono penetrate all'interno dell'abitazione in cerca di suppellettili di valore da asportare. La pronta reazione dei militari e le indicazioni dei cittadini presenti hanno permesso di accertare che gli stessi erano penetrati illegalmente nell'abitazione, tramite la rottura del vetro di una finestra della camera da letto, e che stavano ancora operando indisturbati utilizzando i ferri del mestiere, i trappani e smerigliatrici da taglio, utensili portatili a batterie arnesi atti allo scasso. I soggetti colti sul fatto hanno tentato di darsi alla fuga, seminando lungo il percorso alcuni oggetti utilizzati per il furto, ma sono stati immediatamente inseguiti e raggiunti ed entrambi bloccati dai militari operanti. Gli arnesi sono stati quindi sequestrati, la rifurtiva, consistente in denaro, gioielli ed altri effetti personali, restituiti alla vente diritto.